E' bello amare il calcio. Liga Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, buon pomeriggio da Matteo Marcedu. Bentrovati a Benevento Cagliari, scontro salvezza della giornata 29. Il tempo stringe sempre più e se il Benevento vuole provare a mettere in piedi un ultimo disperato tentativo di salvarsi, ha bisogno di punti già questo pomeriggio. Fischia a Manganiello. Ionita, zona crossa, palla sul sinistro, va Ionita a metterla verso il secondo palo, Mianguet di testa, fermato da Sagnat. Eccola l'esperienza che serviva per chiudere questa azione pericolosa del Cagliari. A minuto 18. Brignola dall'altra parte, cerca un controllo difficile colpetto. In area di rigore, rientra sul sinistro. Brignola, il palo, non è finita, Romagna allontana. Poi il destro di Letizia, ribattuto, vicino al vantaggio, il Benevento. Con il tentativo di Brignola sul palo, alla destra di Cragno. A sinistra Mianguet. Prepara il traversone con il mancino, eccolo che arriva, colpo di testa di Pavoletti. Centrale, la parata da parte di Pugioni. Arriva il fischio e si va con il primo pallone del secondo tempo. Attacca il Benevento. Djuricic in orizzontale. Brignola di prima, cerca Giguillerme. Non bene il Cagliari, ancora Giguillerme dentro. Brignola! Brignola col sinistro! Spacca la porta e porta avanti il Benevento. Un minuto del secondo tempo. Benevento 1, Cagliari 0. Che sberla di Enrico Brignola. Viola. Venuti si propone a destra e riceve in verticale. Venuti dentro col traversone, coda controlla e calcia al volo! Ma sopra la traversa. Chiede una deviazione il calcio d'angolo. Il gol non arriva per chiudere la partita. Buono anche il passaggio in orizzontale per Viola che vuole superare Miangheci. Riesce con una bella finta. Palla sul sinistro. A destra c'è Viola. Viola serve coda. Poi calcia! E va sul fondo. Con il suo destro. Manca ancora l'occasione per il 2-0. Calcio d'angolo. Battuto da sinistra. Il colpo di testa e il gol del Cagliari! Il gol del Cagliari che pareggia nel recupero con il gol di Pavoletti. Ancora di testa l'attaccante del Cagliari. Fa bene vento 1. Cagliari 1. Barella la gira al centro. Deviazione. Calcio di rigore per il Cagliari. Parte Barella. Va con il destro e trova la porta. Barella. Barella regala tre punti al Cagliari. Con il 2-1 firmato al Vigorito. In extremis ancora una volta. Tra Benevento e Cagliari. E su questa azione arriva il fischio dell'arbitro. Titoli di coda. Vince il Cagliari. La giostra del Vigorito. Premia la formazione sarda. La giostra del Vigorito. 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 Grazie a tutti.